Il Governo ha ammesso che ha perso le tracce di 230.000 clandestini. In Italia sono arrivati dal 2013 ad oggi 400.000 persone. Al netto delle persone che hanno avuto una risposta positiva rispetto alla richiesta di protezione e al netto delle persone sistemate nel variegato mondo dell'accoglienza, 230.000 persone sono liberi di vagare sul nostro territorio indisturbati, potendo magari spacciare, potendo rubare, potendo struparare e magari Dio non voglia finire anche nella rete del terrorismo internazionale.